Oggi parliamo di impronta carbonica. L'impronta carbonica è il metodo che permette di calcolare quanti gas a effetto serra un'azienda emette durante un ciclo produttivo. Sempre un concetto difficile, ma in realtà è un concetto molto importante, perché ci permette di capire quanti gas vengono emessi durante una filiera produttiva dall'inizio alla fine della produzione di un determinato bene e questa misurazione, questo monitoraggio, non solo permette a noi di capire quanto si emette, ma permette all'azienda di essere consapevole di ciò che sta facendo, quindi di sapere dove può migliorarsi. Se l'azienda migliora la propria filiera produttiva e quindi diminuisce le emissioni, automaticamente il beneficio è di tutti, è di tutto l'ambiente, è di tutta la società, perché meno emissioni significa meno effetto serra. Conoscere quindi il proprio quantitativo di gas a effetto serra che vengono emessi durante il processo produttivo è molto importante per questo motivo. Il settore vitivinicolo da alcuni anni ha iniziato, soprattutto all'estero, a pensare a questo argomento, cioè a come monitorare i gas a effetto serra. Soprattutto all'estero, dicevo, perché le iniziative principali si sono sviluppate già da alcuni anni in Francia, in Nuova Zelanda, in California, in Australia. In Italia non c'era nulla, non c'era nessuno che stesse lavorando su questo argomento e quindi come agronomi che lavorano nel settore vitivinicolo ci siamo chiesti se non fosse il caso di approfondire un po' le conoscenze in modo tale da rendere le aziende italiane consapevoli di ciò che si può fare per diminuire l'impatto ambientale e quindi automaticamente essere più sostenibili. Più sostenibili sia dal punto di vista ambientale perché si diminuisce l'impatto che dal punto di vista economico perché diminuire le emissioni non significa altro che diminuire i consumi energetici. Diminuire i consumi energetici significa anche risparmiare dal punto di vista economico per cui le aziende diventano anche più competitive oltre che più sostenibili dal punto di vista ambientale. Allora alcuni anni fa abbiamo iniziato a lavorare a questo argomento abbiamo contattato gli agronomi australiani che stavano lavorando a questa cosa abbiamo condiviso con loro le problematiche della nazione italiana e abbiamo messo a punto un protocollo e un calcolatore che permette di analizzare nel dettaglio la filiera vitivinicola e di capire dove sono i vari punti, i vari momenti di emissione di gas a effetto serra. Da quel momento alcune aziende, parecchie aziende sul lago di Garda alcune in Franciacorta e altre in diverse zone italiane hanno iniziato a interessarsi all'argomento e le aziende più sensibili sono state quelle che hanno deciso poi di intraprendere questo percorso è un percorso discretamente impegnativo ma permette all'azienda di comprendere bene ciò che sta facendo e questa acquisizione di consapevolezza permette anche di migliorare il processo produttivo e diminuire le emissioni. In Italia quindi un gruppo consistente di aziende, siamo ormai oltre le 50 su tutto il territorio nazionale tra cui molte grandi aziende che hanno creduto in questo argomento stanno lavorando al calcolo delle emissioni. Si tratta di segnare in maniera precisa ciò che succede durante tutta la filiera produttiva in modo poi da trasformare i dati raccolti in quantità di emissioni di CO2. L'agricoltura ha un ruolo molto importante da questo punto di vista e queste aziende che sono le prime in Italia a lavorarci, le prime che hanno già ottenuto dei risultati e parecchie di loro sono già anche state certificate secondo la norma ISO 14064 che è quella che riguarda il calcolo delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera queste aziende, dicevo, sono consapevoli di questo ma bisogna essere consapevoli del fatto che l'agricoltura riveste un ruolo essenziale non tanto nella quantità di emissione che fa quanto nella quantità di sequestro che fa. Gli agricoltori, in particolare i viticoltori, se lavorano in maniera oculata, attenta e sostenibile sanno come gestire il suolo in modo tale che nel terreno venga accumulata sostanza organica cioè la sostanza che deriva fondamentalmente dai residui vegetali morti e l'accumulo di sostanza organica non è nient'altro che accumulo di anidride carbonica la sostanza organica è fatta in gran parte di anidride carbonica questa anidride carbonica che viene accumulata nel terreno viene di fatto sequestrata quindi possiamo catturare permanentemente nel terreno l'anidride carbonica e quindi diminuire il nostro impatto ambientale, aumentare la nostra sostenibilità perché peraltro un altro concetto molto importante è che se noi riusciamo a sequestrare catturare sostanza organica nel suolo il suolo diventa più fertile e questa maggiore fertilità si traduce in produzioni di maggiore qualità per cui nel caso del vino è molto importante ricordare se c'è un suolo giustamente fertile se le radici della pianta vivono bene nel terreno in cui sono la pianta vive meglio e produce meglio e quindi produce uva di qualità maggiore perché perché ad esempio resiste meglio la siccità oppure affronta meglio un anno con poco sole l'agricoltura quindi ha un ruolo essenziale in quella che viene chiamata sostenibilità ossia il nostro approccio verso un mondo che deve poter garantire anche alle generazioni future di essere costantemente produttivo e un terreno che deve garantire di essere costantemente fertile il lavoro sull'impronta carbonica l'analizzare nel dettaglio tutta la filiera produttiva ha avuto questo grande beneficio da un lato le aziende che hanno capito dove possono incidere nella filiera produttiva per diminuire le emissioni i consumi di energia e i costi dall'altro le aziende hanno anche capito dove possono e come possono lavorare sul suolo per fare in modo che la loro agricoltura la loro gestione del vigneto sia una gestione virtuosa che porta l'azienda nel suo complesso a essere più sostenibile perché di fatto diminuisce le emissioni e meglio ancora aumenta i sequestri. Un altro degli argomenti importanti su cui le aziende che hanno applicato ITAC si sono confrontate è stata ad esempio la gestione del vigneto i vari metodi di gestione del vigneto allora essere consapevoli che magari si può tagliare l'erba una volta di meno lasciarla crescere un attimino di più il vigneto esteticamente sarà un pochino meno bello però il valore ambientale è tanto perché più erba c'è e più riusciamo a catturare CO2 ma anche il valore della diminuzione delle emissioni di quando per il fatto che il trattore entra di meno più volte tagliamo l'erba più gasolio consumiamo e se consumiamo gasolio e mettiamo più CO2. Tutto questo tra l'altro si combina benissimo con il concetto di qualità perché un vigneto ben gestito non deve essere necessariamente un vigneto esteticamente perfetto magari l'erba alta oltre che permettere di avere meno emissione di CO2 perché si taglia di meno o perché cattura di più l'anidride carbonica nel suolo permette anche di avere più presenza di insetti utili che contrastano quegli organismi dannosi che possono danneggiare l'uva e quindi tutto questo diventa un sistema produttivo molto più sostenibile dove ad esempio la biodiversità fa da padrone perché possono vivere più individui, più insetti, più animali utili all'interno del vigneto e noi risparmiamo anche perché facciamo meno interventi pesanti e meno consumi all'interno del nostro vigneto. Volevo dare un senso pratico alle parole del dottor Tonni, l'agronomo, che mi dà una mano a dare un monitoraggio alle emissioni di CO2 in atmosfera. Il senso pratico per quanto riguarda la mia azienda è che il monitoraggio delle emissioni di CO2 avviene in diversi step. Viene calcolato quelle che sono le emissioni dell'azienda attraverso un calcolatore e attraverso quello si vanno a vedere quali sono i punti critici. Per quella dove si può intervenire diminuendo le emissioni di CO2. I primi punti sono quelli ovviamente della campagna. Come dicevamo prima, il fatto di tenere l'erba vuol dire che l'erba assorbe CO2 e la fissa al terreno quindi ne mettiamo di meno in atmosfera. Quando le vigne vengono tagliate, i tralci rimangono in terra. È un intervento inutile quello di andare a utilizzare un trattore per portare fuori i tralci. Rimangono lì, si compostano, diventano sostanza organica. Gli interventi che poi abbiamo pensato di mettere in atto in cantina sono quelli dell'impianto fotovoltaico che ovviamente è buona parte della riduzione delle emissioni di CO2. Il secondo intervento che abbiamo pensato di fare è un intervento sulla bottiglia di vetro. La bottiglia di vetro che utilizzavamo era una bottiglia da 600 grammi. La bottiglia attuale è una bottiglia da 500 grammi. 100 grammi di vetro sembrano un'inezia, però moltiplicato per 150-200.000 bottiglie, che sono le bottiglie di questa tipologia che noi produciamo, diventano 15 tonnellate di vetro l'anno. Il vetro per la sua produzione e per il suo riciclo smaltimento ha bisogno di essere fuso a più di 1000 gradi centigradi. Quindi una riduzione del peso della bottiglia vuol dire camion che circolano con un peso inferiore sul loro cassone, vuol dire meno vetro da riciclare, vuol dire meno vetro da produrre e un risparmio energetico importante. Non da ultimo anche un risparmio economico perché ovviamente una bottiglia più leggera costa di meno di una bottiglia pesante. Non è peraltro vincolante ed importante una bottiglia pesante per il vetro. Il contenitore potrà pesare anche un grammo che non sposta minimamente la qualità del prodotto. Altro tipo di intervento importante che è stato fatto è stato quello di utilizzare i cartoni degli imballi in cartone riciclato e non sbiancato, quello per evitare che siano stati utilizzati degli sbiancanti sulla carta. Non si utilizzano più tappi di silicone o tappi fatti in maniera diversa se non il tappo sughero. Il tappo sughero è perfettamente riciclabile. Peraltro abbiamo aderito a questa iniziativa che si occupa di riciclare i tappi di sughero. Sembra un paradosso ma in una cantina si stappano tante bottiglie per le manifestazioni, per le degustazioni, per milioni di motivi. Tutti questi tappi di sughero li andiamo a infilare nel cartone, vengono riciclati e vanno adesso utilizzati in edilizia per produrre pannelli isolanti. Altre cose che sono state fondamentali nella riduzione della CO2 sono la sensibilizzazione che è stata indotta nelle persone che lavorano all'interno dell'azienda, le quali si sono abituate a risparmiare emissioni di CO2, per cui l'agricoltore, chi sta in campagna spegne il trattore, lo usa a un numero di giri più bassi, lo usa solo quando è esclusivamente importante. In ufficio si sono organizzati in modo da fare le consegne del prodotto in una stessa giornata e cercano di fare meno chilometri possibili, per cui meno consumo di carburante. Chi lavora nelle vari settori chiude l'acqua una volta di più, spegne la luce, cerca di porre più attenzione al risparmio delle energie senza che gli sia stato inculcato in maniera forte e violenta. Semplicemente ha visto che si stava cercando di migliorare la qualità della vita, la qualità del lavoro, la qualità dell'ambiente e ha pensato di metterci del suo, per cui schiacciare un interruttore, spegnere una luce non costa assolutamente niente, ma dal punto di vista ambientale può essere una grossa riserva, un grosso vantaggio.